Scusi, che ora è? 9.10 Sto aspettando il mio figlio, sono arrivato adesso da Roma, avevamo l'appuntamento qui sotto il monumento di Garibaldi? Sì, io pure sto aspettando il mio padre dalle 9, dove ho arrivato a Roma, io faccio il militare qua. Anche mio figlio, la caserma Piane? Sì, vabbè c'è solo quella qua, avrà avuto un permessino visita parenti, credo. Penso di sì, quando facevo il militare io i permessini non c'erano, ma quelli erano gli anni di guerra. Pure mio padre ha fatto la guerra, quando comincia a raccontare dei tedeschi, ricoveri... Anche io ho questo vizio, ma non è perché uno rimpiange la guerra, forse è perché rimpiange la gioventù, e succederà anche a voi. Allora ci dobbiamo dare da fare per avere una gioventù da rimpiange. Lei come figlio deve essere simpatico. Anche lei come padre. È strano, perché è sempre molto puntuale. Pure mio padre no, veramente, lui è sempre impicciato, è avvocato. Anch'io? Sì, allora forse lui ha lo studio nel quartiere Prati. Anch'io? Studio abitazione, c'abbiamo via Paolo Emilio. A 47? Sì, secondo via. Mi tengo 5? 5 e 6. Michele! Ma va!